a benvenuti ragazzi sul canale di giochi next gen siamo tornati oggi con rainbow six siege nuovo episodio mi dice un gioco tra bomba giochi e compagni sono morti non so che cosa stia succedendo esattamente fino a questo momento oggi ragazzi ho trovato un po' di tutto veramente un po' di tutto ho giocato partite online per i fattini prima di registrare ho trovato veramente ragazzi bimbi minchia che si riuscite un tra di loro che parlavano il corpo sfruttendo gli altri compagni non hanno capito che ci sono le autostrade con i tombini aperti per queste cose qui che sarebbe la cosa migliore da fare e quindi giocano a questo titolo qui che invece è molto più serio a parte questo ragazzi allora io ho sbloccato qualche personaggio qualche nuovo attaccante c'è poco nuovo difensore quindi oggi diciamo che potrei provare a giocare infatti sto usando rock in questo momento siamo in due contro cinque ho passato mori vovamo proprio a quel mandone sorry 4-3 e niente da fare round 1 perso però ragazzi ho fatto i due chitti prima di morire ragazzi eccoci qui con il secondo round siamo ora noi da dover attaccare siamo stati il primo round in 4.5 ora qui siamo di nuovo in 4.5 perchè ne è tratto uno ma subito abbandonato ora dobbiamo attaccare non qui nel frattempo io non può se riusciamo a poter entrare da qui 3 secondi me ne vado da sopra siamo di raffinare hai trovato una bomba 30 proviamo ad andare da sopra che si è baggato il fatto di te si è sbagliato ragazzi non darmi da qua ragazzi non entrare da qualsiasi veramente 3 contro 4 in un po qui c'è una trappola vedete i ragazzi l'ho colpito 3 contro 3 l'ho colpito un po' sei stato individuato sei stato individuato sei stato individuo c'è qualche maledetta telecamera che mi sta individuando eccolo qua no come ha fatto uccidermi no ragazzi ma ero convinto di aver ucciso porca miseria il medico si è autocurato ero convintissimo di aver ucciso tutto l'ho detto là era un due perso non ce l'abbiamo fatta ragazzi eccoci giunti nel terzo round siamo qui siamo perdendo di due a zero in questa partita però è un gioco molto molto divertente questo papà ve lo consiglio soprattutto se volete giocare un gioco serie un po' più di squadra un po' più tattico vi consiglio come sempre di avere una vostra squadra se non avete una vostra squadra non vi consiglio appena di consiglio ve lo consiglio però è preferibile avere una propria squadra ragazzi se volete giocare qui direi di piazzarmi da queste parti ecco qua metto qua ecco la piazza qua lo scudo e mi metto qua dietro in difesa eccolo guardate la ragazzo l'ho appena visto passare eccolo qua fuori 1 e no sono stato ucciso io ragazzi non l'avevo neanche visto guardate questo era qui ah ecco era ah ecco ecco era da e come ha fatto dallo scudo mi ha ucciso e ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto il terzo round quindi teniamo in vita questo match bravissimo il nostro compagno di squadra che è riuscito a uccidere l'ultimo attaccante grandissimo perchè ragazzi eccoci qua al quarto round siamo 3 contro 5 potete vederlo anche da sopra lì se vedete quelli piccoli concili semi personaggi e eccoci qua subito sono stato individuato sono stato individuato e ragazzi saliamo perchè da qui hanno capito che ragazzi provo da qua ma eh non è da fare ragazzi niente da fare niente da fare ero rimasto solo quindi abbiamo perso la partita inoltre il mio compagno se ne era andato vedete qui nulla da fare ok ragazzi allora ci vediamo fra fuoco con la seconda partita ok ragazzi eccoci giunti nella seconda partita di oggi siamo 5 contro 5 e dobbiamo prendere l'attacco dalle bombe vedete siamo in 4 italiani sicuri eh sentite che questo ragazzo sta parlando vabbè va bene anche la va bene anche la e l'altro vieni qua con me no no quello da per terra levalo è bravo vieni con me ok e piazza davanti alla barriera di forza da qui ok perfetto ok vedete grande siamo a 5 secondi la posizione delle bombe ora ragazzi mi posiziono qui raga chi vuole metto qua lo scudo chi la vuole usare c'è la vita hanno trovato una bomba non ci ho trovato la bomba a sento delle macchinette diamo un po' hanno fatto saltare un bel po' di telecamere 5.4 ottima fuori uno di loro 5 contro 3 ottimo 3 contro 1 quindi giù deve mandare a prenderlo ragazzi 2 contro 1 attenzione qui c'è di merda giacomo se metta un ruolo vinto che ragazzi eccoci al secondo pronto ora siamo noi ad attaccare i nemici sono già rimasti in 3 non so se i due hanno quitato o se si sono ammazzati tra di loro per sbaglio lui dice che pronto attenzione qua mettiamo qua una bella bombetta vediamo se no da dietro da dietro porca miseria bravi comunque da dietro mi hanno chiamato da dietro mi hanno chiamato da dietro mi hanno chiamato da dietro sono morto maledizione ragazzi bravo 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 nooo eccolo nooo nooo 1 contro 1 attenzione grande grandissimo giacomo grande grande giacomo 2 a 0 possiamo già avere il match point ora che ragazzi eccoci nel terzo e ultimo round quello che potrebbe essere l'ultimo ma di campo i muri che il quale che uno scudo ecco ecco così i 5.3 ciao ottimo mi stanno arrivando con i rinforzi l'ultimo che ho preso il 2 ecco grandi così e si va nicolotto grandissimo ok ragazzi vittoria perfetta 3 a 0 ok ragazzi ho concludo qui questo video vi porterò prossimamente un altro episodio perché il gioco è bellissimo se vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se non lo avete fatto qui dangeoneer83 è tutto ci vediamo al prossimo video bella